Perde il comando della classifica del campionato italiano rally Simone Campedelli in coppia con la navigatrice Tania Canton. Nel round numero 4 stagionale spartiacque in Sardegna tutto è andato storto. Quest'anno per noi questa gara non è stata positiva come ci aspettavamo. Eravamo partiti bene venerdì essendo primi dei piloti italiani iscritti al campionato italiano rally. Poi purtroppo la rottura dell'idroguida ci ha fatto commettere un errore molto banale quando avevamo già rallentato e abbiamo capottato a bassa velocità per il bloccaggio dello sterzo. Sicuramente una cosa non molto simpatica. In classifica generale salgono in testa Basso Granai su Skoda Fabia. Tallonati da Rossetti Mori con Citroen C3 per Simone Campedelli c'è da compiere una rincorsa a partire già dal rally di Roma a luglio. Cerchiamo di archiviare questo weekend andato storto non dimenticando comunque che abbiamo fatto due secondi posti e un primo posto. Siamo assolutamente in corsa per il tricolore e cercheremo di tornare più forti a Roma a metà luglio con la nuova Forpiesta.